Un argomento che è particolarmente sentito e molto delicato e che coinvolge più persone di quanto si possa immaginare, quindi anche la possibilità di dare al Comune la possibilità di appunto spiegare che cosa c'è in campo e quali sono le iniziative che già sono presenti, quelle che ci saranno e come fare a entrare nel percorso del dopo di noi attraverso il Comune. Grazie.